Non è solo un testo dei socialisti democratici, è il testo approvato in commissione giuridica da uno schieramento che comprende il Movimento 5 Stelle, i Verdi, la GUE e prevede che in ogni paese ogni anno le aziende quotate in borsa diano informazioni relativamente alle loro attività e alle tasse che pagano, introducendo un criterio di trasparenza che contrasterebbe moltissimo l'illusione e l'evasione fiscale che abbiamo visto essere addirittura clamorosa in alcune realtà. È un testo contrastato dai popolari, da una parte di Alde e dai conservatori, una bella battaglia politica da portare con decisioni fino in fondo.